ciao a tutti sono marco ghezza brand ambassador di bim santori per l'italia e oggi insieme parleremo di ibiki ibiki harmony ibiki è il blend più famoso di casa santori è il blend che ha reso celebre l'arte di saper mescolare vari liquidi in giappone pensate che è il risultato dell'assaggio di oltre un milione di botti da parte del nostro master blender i liquidi contenuti in ibiki sono provenienti dalle nostre tre distillerie e sono almeno dieci malti diversi provenienti quindi da chita akshu e yamazaki la prima distilleria aperta in giappone nel 1923 è quindi un blend proveniente da almeno dieci tipi di malti differenti ed è un blend che invecchia in diversi tipi di legno tra cui la famosissima quercia bianca giapponese rarissima è un whisky che si presenta di un bel colore ambrato scuro un whisky pieno armonioso come ci dice il nome harmony un whisky che ha queste note fortemente fruttate queste note che però ricordano anche il cioccolato l'arancio candito sul finale poi abbiamo queste invece note che si sposano di più con qualcosa di speziato quindi dello zenzero della cannella del pepe nero insomma un whisky a tutto tondo dove l'arte del blending giapponese si esprime sotto forma di bottiglia